Michelle Unziker domani compirà 47 anni. Il primo compleanno da nonna, eppure con una tempra, e un fisico, da neotrentenne. Merito di tanto sport, di un regime alimentare sano, ma anche dell'amore che da poco è tornato nella sua vita. Da qualche mese la conduttrice è legata sentimentalmente ad Alessandro Carollo, osteopata 41enne e molto noto nel jet set milanese. I due si frequentano da ottobre e hanno ufficializzato la storia poco prima di Natale, quando ormai assediati dai paparazzi non potevano più nascondersi. Michelle preferisce mantenere il massimo riservo su questa nuova relazione, che arriva dopo la dolorosa separazione da Tommaso Trussardi, papà delle figlie sole e celeste, ma in un'intervista rilasciata a TV sorrisi e canzoni si lascia andare e confessa, sono serena. Ed è la cosa più importante. Domani festeggerà con lui, ma anche con le figlie, che lo hanno già conosciuto. Sull'imminente compleanno, invece, rivela, la cosa strana è che non mi rendo conto del tempo che passa. L'età anagrafica non mi pesa, almeno per ora. Prima o poi arriveranno gli tacciacchi che quelli sì, li temo un po'. Infine il segreto della sua perfetta forma fisica, la costanza, mi alleno tre volte alla settimana, se riesco anche quattro. Corpo libero, pesi, ginnastica funzionale. E per avere delle Kyron chapette, tanti squat. Piacchic Mission Impossible, come il suo show che sta per tornare su Canale 5, Missione Compiuta. Re al video vi ringrazia per averci accompagnato fino alla fine. Per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Grazie per il vostro supporto.